Buonasera Ministro Nordio. Buonasera a lei. Lei ha detto che i ricchi e i potenti sono imputati fragili che vanno difesi psicologicamente. Certamente, guardi, il debola non è solo diseredato. Guardi, in 40 anni da pubblico ministero, non sa quanti imputati miliardari ho visto che tremavano come le foglie. E guardi, tremavano, perché ha l'idea, perché poi sono quelli che perdono di più. Ho capito, ma sì. Quando trema uno come foglia che gli portano via la villa di San Mori. Ma chi se ne frega però, scusi. È roba che gli tremava, pensi, anche il Rolex. E vabbè, problemi suoi. Che era l'ancente, gli segnava le sette, poi le otto, poi le sette, poi le otto. Come impazzita. Tremando il Rolex. Ma scusi, però gli imputati non sono tutti uguali. Sì, sì, certamente sì. Ma dobbiamo difendere i più fragili. Che sono i poveri, no? Paradossalmente no. Ma come no? Ma lei sa cosa vuol dire? Cosa? Svegliarsi la mattina e trovarsi l'elicottero sotto sequestro con le ganasce. Non so cosa voglia dire. Solo perché magari ha fatto fallire una banca. Ebbè, ma il minimo sono misure. Paradossalmente il povero non ha elicotteri da perdere. Mentre è ricco, sì. Ma non è un ragionamento. Io ne ho visti tanti miliardari. Ma io parlo psicologicamente agli avvocati. Io ne ho visti tanti miliardari che davanti al magistrato proprio sembrano pulcini indifesi. Non dormono da giorni. Ma che pulcini. Ti viene voglia di prendere e dire ricchi potenti miliardari. Non sudate così per l'agitazione. Certo. Che hanno tutta la sudorazione. Sì, vabbè. Anche tutti i magliori di Kashmir con le palline, poverini. Con il sudore, certo. Paradossalmente... Sentiamo. ...uno che ruba una mela perché ha fame. se lo manda in carcere e gli fa in favore. No, 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 no. E come no? Ma no, ma no. E gli danno due pasti al giorno. Ho capito. Gli danno il pollo. Si ritrova il dolce. Perché il pollo? E magari... Cosa? Sotto la doccia. No. Trova anche l'amore. Ma cosa sta a dire? Allora, il ricco, se gli porti via le ganache, non lo trova l'amore. Ho capito. Però guardi, le ricordo, lei è il ministro della giustizia. Paradossalmente. Ma le sembra giusto mettere davanti a un giudice e un amministratore delegato a tremare come un gattino bagnato solo perché ha fatto cadere un ponte. Ma certo che lo... Ma certo. E i 14 milioni di buona uscita che gli spettano di diritto, se in galera. Perché poi glieli danno, eh, 14 milioni. Eh, certo, infatti, appunto. E glieli danno. Però se in galera come fa a spenderli, povero gattino? Ma non è un problema per la collettività. Per te si commuove per i cani abbandonati in autostrada, ma non si commuovono per i poveri amministratori delegati che quell'autostrada la non m'hanno tenuta. Ma è il minimo, è il minimo. Però, senta, invece, parliamo delle intercettazioni. È vero che nella sua riforma lei vorrebbe limitarne l'uso? Allora, intanto, chiarisco che non verranno toccate quelle per i mafiosi e per i terroristi. Sì, però manca la riforma. Le intercettazioni, anche se parliamoci chiaro, paradossalmente, i mafiosi è inutile intercettarli. Ma come è inutile? Che parla una telefona dei loro crimini? Ma sì che parla. Io, una volta, quando ero PM, ho sentito una telefonata di un mafioso che doveva consegnare quattro cavalli e mezzo a un colombiano. Appunto. Ma cosa me ne faccio di un'intercettazione così? Ma no, ma... Posso mica arrestare tutti quegli amanti dell'Ippica? Ma allora, guardi che quattro cavalli e mezzo, forse era un giro di droga, eh. E boom, è arrivato Montalbano. Ma non faccia lo spiritoso. Comunque, in sostanza, lei, le intercettazioni nei casi, per esempio, di corruzione, le toglie o no? Ma allora, non ha seguito il discorso di prima, evidentemente. Un corrotto riceve una somma. E allora? Quella somma lo rende ricco. E quindi mi entra direttamente nella categoria dei fragili intimoriti. Ah, certo. Che vanno tutelati. Ah, per forza. Come i politici, ne prenda uno a caso. I politici. Uno che, paradossalmente, aveva 30 mesioni, i giornali, uno che ha costruito una città del Nord 2, una città del Nord 3, con un'ex fidanzata che adesso è la moglie di Paola Turchi. Cosa lo intercetta a fare per scoprire che, paradossalmente, è stato generoso con le nipoti di capi di stati, con le piramidi? Tanto lo assalvano! Ma sta parlando di Berlusconi! Si vedeva! Paradossalmente!